salve benvenuti a questo talk vi illustrerò come funziona la community e la membership nella document foundation che è la fondazione che al dietro che è dietro al progetto libre office ma andiamo con ordine innanzitutto ringraziamo chiaramente gli sponsor e poi voglio passare diciamo a presentarmi che mi sembra una cosa anche di educazione mi chiamo Gabriele Ponzo sono di Terni sono un imprenditore un libero professionista se vogliamo dire così sono fondatore tuttora ancora segretario del Terni Grunlug che è il gruppo utenti linux di Terni poi in seguito ho anche fondato Libre Italia che è un po' l'associazione che in Italia esprime diciamo il capitolo italiano della document foundation quindi del progetto libre office ma non solo perché comunque si occupa di software libero anche oltre libre office sono stato chairman quindi presidente del membership committee della document foundation di cui vi ho accennato fino 20 giorni fa e sono certificato come insegnante diciamo per quanto riguarda libre office nonché esperto in migrazioni laddove migrazioni si intendono chiaramente il passaggio da suite proprietarie a libre office oggi andremo a vedere quali sono i progetti che fanno parte della document foundation la community come entrarci come contribuire perché farlo e infine come perché diventare membri della document foundation le foto che vedete che vedete sono quella al centro con tutto il gruppo di persone la conferenza internazionale e annuale di libre office dell'anno scorso ad almeria in spagna tra l'altro c'è appena stata la conferenza internazionale di libre office di quest'anno che però essendo per via del covid chiaramente è stata online non fisica ed è stata insieme ai agli amici di open suze l'altra foto invece ritrae me in marina latini un'amica che anche lei fa parte della della fondazione del progetto anzi attualmente è lei la presidente del membri committee ed era un hack fest a perugia i progetti sono due vale la pena precisarlo perché molte persone moltissimi non sanno cos'è del document foundation che per l'appunto questa fondazione che ha sede a berlino in germania una fondazione senza scopo di lucro ovviamente quindi una stiftung si dice in tedesco se non erro e chiaramente diciamo ecco non ha fini di lucro quindi cura sicuramente il progetto libre office è il più grande ma c'è anche un altro progetto all'interno della document foundation che è del document liberation sostanzialmente non vi parlo di libre office perché penso che la nostra grande maggioranza di voi sappia cos'è rapidamente è una suite per ufficio assimilabile a microsoft office piuttosto che a corel world perfect piuttosto che alla suite di apple e quante altre ce ne sono in giro per cui ci sono variati componenti per la video scrittura fogli di calcolo presentazioni come quella che sto usando ora e quant'altro mentre l'altro progetto the document liberation si occupa dello sviluppo software e praticamente sviluppa dei componenti chiamati filtri che sono quelli che fanno in modo che libre office ma non solo possano importare ed esportare in formati tra virgolette alieni ma non solo cioè in realtà qualunque cosa entra ed esce dal punto di vista di dati quindi di file dentro libre office e dentro anche altri programmi chiaramente era un formato in cui è codificato e la codifica e la decodifica anzi la decodifica e la ricodifica sono gestite per l'appunto da questi moduli software chiamati filtri perché parlo non solo di libre office perché come vedete dalla da quello che ho scritto sostanzialmente molti altri software liberi usano questi filtri questi moduli in perfetto stile open source quali per l'appunto inscape scribus calligra e anche molti altri per esempio la possibilità che ha libre office di aprire e salvare nei formati diciamo microsoft open scusate office open xml docx xls x compagnia bella e grazie a questi filtri tanto quanto la possibilità di salvare aprire file in formato corel adobe apple e quant'altro e lo stesso dicasi anche per inkscape scribus e questi altri software che hanno queste stesse possibilità queste stesse compatibilità nei formati grazie a questi filtri del progetto del document liberation fatta questa precisazione parliamo di community la community di libre office noi abbiamo persone veramente da ogni parte del mondo in questa foto sono giù in fondo gli asiatici si vedono un po' sfocati ma vi assicuro che ci sono tanto quanto persone dall'america del nord e del sud veramente dall'africa a tutti i continenti e chiaramente parlano e scrivono nelle più svariate lingue questo è ovvio e implicito e questo non fa altro che arricchire secondo me e secondo molti di noi perché la diversità è una ricchezza per non parlare per appunto delle conoscenze delle competenze e quelle al di fuori a prescindere dalla nazionalità ovviamente ognuno di noi ha delle conoscenze diverse ed è bello confrontarsi arricchirsi e contaminarsi a vicenda a forza di fare la battuta a vicenza è uscito naturale una cosa che però è importante precisare che non ci sono soltanto sviluppatori o tecnici programmatori la community vedremo tra poco è fatta di molte persone dalle più svariate capacità come entrare nella community per noi la diversità è un valore come ho già detto quindi chiaramente non ci sono limiti di nessun tipo ed è aperta a tutti non facciamo distinzioni di religione sesso colore nessun tipo di distinzione anzi ribadisco più abbiamo ricchezza più abbiamo diversità nelle tipologie diciamo così anche se è un po' restrittivo e riduttivo comunque è una ricchezza un valore aggiunto chiaramente utilizzare LibreOffice è sicuramente un primo passo perché insomma di questo stiamo parlando e quindi è bene conoscere quantomeno utilizzare il programma e apprezzarlo per l'appunto se si apprezza se si riesce a intravedere l'entusiasmo e lo spirito che c'è dietro questi progetti allora forse quello è il momento di entrare a far parte della community perché non essendo un software proprietario ma un software libero c'è molto volontariato e quindi diciamo che quello che deve trasparire per l'appunto è lo spirito che c'è dietro di dare e avere per l'appunto noi sappiamo che il software libero molto spesso molto spesso ci permette di fare moltissime cose a costo praticamente zero io in questo momento sto usando Linux, OBS Studio, LibreOffice sostanzialmente non c'è un solo software proprietario che io stia usando in questo momento neanche uno che abbia dovuto pagare per la precisione però il mio non pagare questi software diciamo che dal punto di vista di coscienza comunque mi sento in dovere di restituire ed è questa la considerazione da fare cioè non prendere prendere solo prendere ma restituire qualcosa se non sotto forma di donazione di denaro che sono sempre ben accette per carità ma anche volendo anche meglio sotto forma di tempo e quindi di volontariato nel progetto stesso questo è lo spirito che muove i nostri membri ognuno di noi di solito ha delle passioni e degli interessi che possono essere declinati all'interno del progetto per esempio a me piace fare, ho fatto per anni lo speaker professionalmente quindi è una cosa che mi viene bene, mi piace e quindi per questo motivo ad esempio sto facendo questo video come ne ho fatti altri nonché ad esempio il doppiaggio di video in inglese, cioè dall'inglese all'italiano insomma quindi cose che diciamo rientrano nelle cose che so fare e che mi piace fare perché poi non bisogna mai dimenticarsi che il volontariato è bello quando ci si diverte perché alla fine non essendo pagati lo fai se ti piace farlo insomma basta soltanto avere un po' di tempo libero senza obblighi, cioè non è che ci sono contratti tali per cui uno deve impegnarsi un tot di tempo piuttosto che quindi la voglia di divertirsi e un po' di tempo libero quando si ha come contribuire a LibreOffice o a Document Liberation Project le iconcine che vedete accanto alle scritte sono l'applicabilità di quella materia diciamo a un progetto piuttosto che l'altro dunque l'icona con il documento inclinato è quella di Document Liberation Project quindi famoso software per i filtri quindi vedete che per LibreOffice si può fare di tutto, per Document Liberation Project un po' meno perché per esempio la localizzazione non è necessaria visto che si tratta di un software quindi c'è un software nemmeno di un componente di un software quindi qualcosa che non è neanche visibile all'utente finale e quindi non ha bisogno di localizzazione però ecco vediamo che c'è del marketing che è alla portata di tutti la documentazione, questo magari bisogna avere qualche competenza specifica nello scrivere manuali la localizzazione e qui bisognerà avere un po' di conoscenza della lingua inglese quality assurance, infrastrutture, design e sviluppo ma ora le vediamo una per una il marketing chiaramente consiste nel fare attività di marketing per l'appunto quindi conferenze, promozioni, seminari qualunque cosa possa diffondere, possa promuovere il prodotto e i progetti presso il pubblico per cui appunto conferenze, corsi, promozioni, materiali promozionali quali per l'appunto fotografie, presentazioni, video, interviste e quant'altro e chiaramente non è da trascurare anche il social network, i social network quindi Twitter, Facebook adesso c'è Instagram che va per la grande che dovrei forse effettivamente aggiungerlo insomma promuovere in qualunque modo il progetto LibreOffice o Document Liberation Project e la Document Foundation documentazione, l'abbiamo accennato, chiaramente consiste nello scrivere i manuali in lingua inglese perché poi dopo per l'italiano c'è la localizzazione ma ci arriviamo oppure l'help in linea, la guida in linea, anche questa in inglese le pagine wiki che aiutano anche queste nell'uso del software e anche in altri aspetti legati al progetto le specifiche dei formati, dei file, questa è una cosa per il Document Liberation Project chiaramente oppure anche il dare supporto nelle mailing list internazionali o anche nazionali ci sono delle mailing list per ogni nazione tendenzialmente o più che altro per ogni lingua parlata laddove magari la gente chiede supporto, dice come si fa a fare questa cosa ecco anche solo rispondere, guarda io ho risolto in questo modo è un modo di contribuire, è un modo di fare volontariato per il progetto anche qui Social Network, in questo caso vale citare Ask che è una piattaforma fatta apposta per chiedere informazioni, delucidazioni e supporto e aiuto Reddit e poi ancora Twitter, Facebook e quant'altro la localizzazione consiste nel tradurre i manuali oppure l'help in linea il sito web qui voglio fare un attimo una piccola precisazione sui manuali non sempre serve conoscere l'inglese, paradossalmente anche le figure vanno tradotte tra virgolette, nel senso che se io nel manuale a un certo punto ho l'immagine che mi dice di aprire il menu file per esempio e fare salva, è chiaro che sul menu in inglese sarà file save in quello in italiano sarà file salva, ma in questo caso si tratta di utilizzare il programma in italiano fare uno screenshot, cioè una fotografia del programma e riportarla al manuale quindi nello specifico, in questo proprio caso specifico non serve espressamente conoscere l'inglese basta semplicemente fare a pappagallo tra virgolette la stessa cosa che si vede ricreare la stessa immagine che si vede sul manuale in inglese nella propria lingua, nel nostro caso nell'italiano poi ci sono da tradurre le pagine wiki, l'interfaccia di LibreOffice perché per l'appunto quando il programma aprite il menu modifica, file, visualizza queste belle cose qua tutte in italiano perché qualcuno le ha tradotte oppure i materiali di marketing, chiaramente quindi i comunicati stampa piuttosto che i volantini, tutto ciò di cui abbiamo accennato prima e in teoria anche quello che faccio io molto spesso, cioè dare la voce in italiano ai video in inglese anche quello sotto certi aspetti è una localizzazione nel marketing Quality Assurance, qui prima ho tralasciato per parlarne meglio adesso si tratta di migliorare la qualità del programma la prima cosa da imparare a fare, se qualcuno si vuole cimentare in questa cosa che non è da programmatore, non è da sviluppatore, anche qui fino a questo momento nessuna di queste cose necessita di conoscenze specifiche approfondite di programmazione il bug try aging sarebbe andare a vedere quali sono i bug aperti, attivi e vedere se anche sulla propria macchina, sul proprio computer si ripresentano perché se una persona qualsiasi segnala un bug e nessuno lo confuta, nessuno lo conferma tendenzialmente è molto probabile che rimarrà ignorato perché non è detto che non sia un problema di quel pc, di quella macchina o di quell'utilizzatore che magari sta facendo qualcosa di sbagliato quindi il try aging consiste nel sostanzialmente rifare a pappagallo se vedete sulla destra c'è uno screenshot di un bug anche se non è uno dei migliori come esempio diciamo di solito c'è la monkey list, c'è la lista a prova di scimmia cioè uno fai questo, due fai quest'altro, tre fai quest'altro, cosa succede? quindi sono fatti apposta per far sì che sia molto veloce, molto rapida la controprova e non far perdere tempo ai volontari chiaramente invece il bug reporting, quando si è fatto un po' di try aging e si è capito come funziona il meccanismo si può anche fare reporting, cioè aprire i bug, le segnalazioni sempre rispettando questa regola della monkey list cioè di essere molto concisi e dettagliare con dei passi fai questo, fai questo, fai questo dovrebbe uscire questo e invece esce quest'altro a te cosa esce? dopodiché c'è il bug hunting cioè prima della release, prima del rilascio di nuove versioni di LibreOffice si vengono fatte tra virgolette delle campagne di solito dei fini settimana in cui ci si mette tra virgolette di punta a cercare i bug quindi si utilizza molto chiaramente una moltitudine di volontari e di persone si mettono ognuno a casa sua a utilizzare fitto fitto come si dice LibreOffice alla ricerca di potenziali bug riportare i link corrotti tante volte quando ad esempio in una finestra di dialogo si preme F1 che è il tasto per la guida in linea dovrebbe riportarti tendenzialmente alla guida di quella finestra di dialogo di quella funzione e quant'altro capita le volte che invece ti porti a una pagina generica ecco questa è una cosa che va segnalata preparazione di file per i filtri di import-export perché per esempio magari c'è un file che ha qualche difficoltà nella compatibilità e nella trasformazione di formato quindi magari si può anonimizzare e segnalare dice vedi un po' con questa cosa come ti funziona e ecco appunto la segnalazione di aspetto differente tipo guarda a me questo file su Word per esempio mi si vede in un modo, su LibreOffice in un altro cosa c'è di sbagliato e quindi anche queste sono segnalazioni che aiutano a migliorare in questo caso tendenzialmente i filtri dunque il design questa è una cosa molto creativa ha a che fare con intanto per iniziare con i modelli di documento per esempio le presentazioni sono qualcosa in cui ci si può cimentare per fare dei nuovi template dei nuovi modelli anche se bisogna saperli fare ma insomma entrando nel gruppo diciamo che ognuno di queste aree di competenza ha dei gruppi all'interno dei quali poi si può entrare ed essere istruiti e aiutati ad andare diciamo a iniziare e poi a fare le cose al meglio per cui i modelli di documento che possono essere presentazioni ma anche lettere documenti di qualsiasi tipo fogli di calcolo e quant'altro oppure l'interfaccia utente qui queste due fotografie questi due screenshot riportano due parti del programma che si possono chiaramente suggerire dei miglioramenti tenete presente che il LibreOffice le finestre di dialogo come questa trova e sostituisce ad esempio non sono hard coded cioè non sono codificate nel programma bensì il programma si porta presto dei file .ui che con un programma chiamato Glade si possono personalizzare quindi senza neanche ricompilare senza neanche dover fare giri strani cioè se in teoria se uno volesse personalizzare l'aspetto delle finestre di dialogo sulla propria istanza di LibreOffice lo può fare liberamente diciamo in autonomia poi le icone si possono fare per l'appunto le icone dell'interfaccia utente si possono disegnare i nuovi set di icone insomma ci sono molte cose che si può fare nel design e c'è per l'appunto un gruppo apposito l'infrastruttura perché non sembra ma portare avanti il baraccone come si dice non è una cosa semplice chiaramente noi abbiamo batterie di server per permettere ai programmatori di lavorare che ospitano non solo i codici sorgenti ma anche le compilazioni notturne parallele su varie piattaforme vedete che qui ci vuole un po' di competenza sistemistica non si disdegna eventualmente anche qualche conoscenza nella programmazione non fa male ma non è indispensabile le piattaforme che ne abbiamo su sono per esempio Bugzilla che è quella che abbiamo visto prima per segnalare i bug Garrett per la votazione delle patch cioè delle migliorie OpenGrock per fare le ricerche sul codice sorgente le pagine wiki che non vi devo spiegare cosa sono Tinderbox che fanno delle compilazioni parallele Nextcloud su cui appoggiamo il nostro cloud interno su cui appoggiamo chiaramente i documenti e sul quale c'è una istanza di LibreOffice Online perché ricordo a tutti che esiste anche LibreOffice Online e ricordo infine che non esiste il cloud ma esiste il computer di qualcun altro quindi Nextcloud su propri server è sicuramente preferibile rispetto a tanti cloud storage e vari altri storage diciamo appunto in cloud di provenienza anche sicura ma fino a un certo punto perché non si sa mai fino a che punto insomma sono sicuri dati e non trafugati GDPR e tante altre belle cose Redmine è una piattaforma che usiamo per fare dei ticket cioè sostanzialmente per organizzare il lavoro da fare Silverstripe è la piattaforma che ospita che è tipo WordPress per capirci serve per i nostri siti web e WebLate è una piattaforma che usiamo per tradurre ce ne sono altre ma mi fermo qui perché non voglio tediarvi oltremodo poi arriviamo alla programmazione vera e propria qui chiaramente servono conoscenze di programmazione anche se si può iniziare diciamo ci sono vari step a vari livelli le macro sono sicuramente il primo passo il più semplice si possono fare in vari linguaggi tra cui anche il basic il python il javascript insomma ci sono svariati i linguaggi che si possono usare quindi è più semplice dalle macro si può passare alle estensioni che sono dei plugin dei componenti aggiuntivi di LibreOffice e che di fatto sono delle macro diciamo consolidate poi ci sono gli easy hacks che sono sostanzialmente dei piccoli dei bug molto semplici che i programmatori esperti se vogliamo lasciano indietro lasciano proprio non compiuti appositamente per i nuovi programmatori per le nuove persone che si affacciano al progetto perché sostanzialmente non è banale entrare in un progetto come LibreOffice che ha milioni di righe di codice quindi non è semplice quindi è bene entrare magari diciamo piano piano a piccoli passi quindi questi easy hacks servono a questo scopo poi chiaramente c'è la programmazione quella profonda i core developers si può partecipare alle hack fest e c'è un canale IRC per chissà cos'è la più antica chat istantanea di internet che si chiama LibreOffice Dev su FreeNode se non ricordo male inoltre oltre alle hack fest che sono queste feste queste parti tra virgolette virtuali nel senso che a volte si fanno da remoto altre volte quando era possibile prima del covid di persona almeno due all'anno ci sono anche dei workshop gratuiti ovviamente che sono più genericamente dei corsi tra virgolette di programmazione in linguaggio C++ che è il principale linguaggio utilizzato in LibreOffice non è l'unico ma è diciamo il 90-95% C++ perché contribuire perché mai io dovrei voler dedicare il mio tempo libero a LibreOffice invece che andare a fare una passeggiata premesso che una passeggiata va sempre bene farla per motivi di salute però avendo tempo chiaramente anzitutto come dicevo all'inizio per restituire qualcosa perché è bello usare tutti questi bei software liberi ma possibilmente prendere prendere sì ma anche dare e poi dà molta molta soddisfazione a me personalmente ma penso per esperienza tutte le persone con cui parlo diciamo c'è molto entusiasmo legato a questo a questo spirito di comunità a questo sentirsi parte del progetto sentirsi utile per gli altri perché anche la piccola modifica anche la piccola miglioria comunque poi ne beneficeranno tutti perché questo è lo spirito del software libero conoscere i membri della community quindi tante persone diverse con culture diverse lingue quello che dicevo all'inizio essere riconosciuti perché piano piano ci si conosce poi magari ah tu sai quello che ha fatto quella cosa oh grazie guarda effettivamente era molto utile mi serviva anche a me incoraggiare altri ad unirsi perché quando si è parte del progetto poi si acquisisce questo questo status di evangelista si dice in genere no accrescere le proprie conoscenze sicuramente perché in qualunque campo non ribadisco non solo in programmazione anche magari ecco facendo dei video degli speech delle cose del genere piano piano si migliora perché poi comunque magari ci si confronta con il gruppo che si occupa di quello e magari guarda potresti fare così e quindi chiaramente si migliora la propria conoscenza si possono usare anche l'appartenenza stessa al progetto come referenza nei curriculum e questa è una cosa che più di una volta è stata richiesta ed è stata utilizzata anche con successo sistemare i bug trovati se si è in grado di farlo ovviamente o riuscire a farlo fare nel senso che anche quella è un'impresa tra virgolette nel senso che essendo volontariato nessuno garantisce che i bug che qualcuno segnala verranno risolti i bug più gettonati tra virgolette quelli più votati più commentati hanno più probabilità ma comunque nessuna sicurezza e anche lì è un lavoro di lobbying tra virgolette a ruffianarsi qualcuno a dire dai sì per favore oppure c'è sempre la via dell'assoldare dei programmatori chiaramente e questo magari per delle grandi aziende o degli enti pubblici magari potrebbe essere il caso perché voglio dire con moltissimi soldi che si risparmiano dalle varie licenze per centinaia o migliaia di postazioni chiaramente il risparmio potrebbe diciamo portare un budget per magari sistemare dei bug trovarsi nei crediti perché nel sito web c'è una pagina dove sono riportati tutti i nomi e cognomi delle persone che contribuiscono e anche quello insomma dà orgoglio per quanto mi riguarda e insomma fare la differenza cos'è la membership e perché richiedere la membership sostanzialmente è fare parte della fondazione come ho detto è una fondazione tedesca a differenza delle associazioni italiane in cui tipo Libre Italia ad esempio ma anche il Lugo di Orvieto il Lugo di Terni i vari lug diffusi in tutto il nostro territorio nazionale a differenza delle associazioni dove basta pagare una quota associativa diciamo ed essere ammessi ovviamente dal consiglio direttivo qui non c'è nulla da pagare ma diciamo che la la membership cioè l'appartenenza alla fondazione si guadagna attraverso la dedizione attraverso i contributi quello che si chiede è di contribuire regolarmente non necessariamente tanto ma regolarmente fosse anche un'ora al mese una fesseria qualsiasi però che meno male anche un mese se salti non succede niente però insomma mediamente noi del membership committee che dobbiamo decidere chi è dentro chi è fuori quindi chi può far parte della fondazione chi non può farne o rimanerne parte dobbiamo vedere un'attività tendenzialmente costante perché prendere parte perché chiedere la membership perché chiaramente si può partecipare alla governance cioè dare diciamo votare per il board of directors per il consiglio direttivo della fondazione o per il membership committee che è quello di cui faccio parte che sono gli organi che governano la fondazione stessa e quindi il progetto quindi entrare più addentro del progetto e cercare di influenzarlo o far parte di quei corpi perché se uno si candida e viene votato chiaramente come è successo anche per me può far parte del board o del membership committee tutti e due no ovviamente o l'uno o l'altro tutti e due sì ma non nello stesso momento mettiamola così sentirsi ambasciatore perché poi a quel punto si comincia a essere più al dentro del progetto e quindi ci si sente per l'appunto più portavoce anche del progetto stesso conoscere per l'appunto i progetti LibreOffice e Document Liberation e le persone più da vicino far crescere il progetto con il proprio contributo arricchire anche qui il curriculum vitae perché anche questo dà lustro diciamo l'appartenenza a questa fondazione ricevere rimborsi viaggi perché se si viaggia per esempio si va a fare quando si poteva conferenze si presenzia chiaramente previa autorizzazione però si ha diritto a un rimborso per il viaggio il che chiaramente non deve essere il fine ultimo questo mi sembra ovvio però non è da disdegnare si possono prendere le certificazioni le certificazioni come sviluppatore oppure come formatore come me o esperto in migrazioni sempre come me e può diventare un lavoro come dipendente della fondazione stessa perché ogni tanto cerchiamo delle persone ogni tanto si allarga diciamo la nostra base di collaboratori oppure come collaboratore esterno perché molti di noi non molti di noi non sono un collaboratore esterno molti dei nostri collaboratori chiedo scusa sono esterni diciamo a partita IVA mettiamolo così oppure come imprenditore quindi come azienda del settore dell'ecosistema come usiamo a dire noi oppure come dipendente di un'azienda dell'ecosistema insomma far parte del progetto sicuramente vale la pena perché le conoscenze che si acquisiscono in tutti i campi sono spendibili e questo secondo me è un dato molto importante io con questo avrei concluso la presentazione vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione ricordo che quest'opera questa presentazione è comunque rilasciata in creative commons quindi liberamente distribuibile a patto che non ci sia scopo di lucro e che venga citato l'autore cioè me Gabriele Ponzo grazie ancora per l'ascolto buon proseguimento grazie ancora per l'ascolto